Ci troviamo a Porto Ercole, nel sud della Toscana. Qui è presente una marineria a strascico specializzata tutto l'anno nella pesca di crostacei, principalmente gamberi e scampi, specie quindi molto pregiate. Negli ultimi anni, i pescatori hanno messo in atto l'uso di nuovi dispositivi per cercare di incrementare le catture. In cosa consiste? Principalmente nell'uso di luci che vengono fissate alle reti. Questa notte, quindi, ci imbarcheremo per effettuare delle prove. Effettueremo delle pescate con le luci e le pescate senza luci per valutare l'effetto di questi dispositivi sulle reti, sia per valutare l'incremento delle catture delle specie bersaglio, quindi dei crostacei, anche per valutare l'effetto che può avere su altre specie, magari meno pregiate o specie che vengono addirittura scartate. Infatti, nella pesca strascico, una percentuale della cattura è soggetta a scarto, cioè viene ricettata in mare dai pescatori, proprio perché non ha un valore economico. Si tratta infatti di specie di scarso pregio alimentare o di individui troppo piccoli, spesso al di sotto della taglia minima legale, per cui devono essere per forza ricettati in mare. E questo ha un impatto sull'ambiente e sull'ecosistema. Quindi cercheremo di valutare attraverso queste pescate sperimentali se c'è, oltre a un effetto sulle specie bersaglio e la pesca, anche sulle specie che vengono catturate accidentemente. Sono circa tre anni che noi che usiamo le luci, però è già qualche anno di più che qualche furbone ha anticipato la scoperta. A quello che vedo io c'è un miglioramento della pesca, però soprattutto per il gambero rosa e di notte, di giorno, almeno quello che facciamo noi non vedo miglioramenti. Noi le montiamo tutte di color bianco, il metro una dall'altra, sopra la portice della rete. Diciamo la moda, dicono che quelle bianche fanno più di quelle colorate, blu, verdi. Ho notato solamente nel gambero rosa e a basso fondo, diciamo dai 100 ai 90 metri, 80 metri. Fuori quei fondi lì, che si pesca di giorno, non ho notato nessuna miglioria. La qualità è quella, cambia solamente nel gambero rosa. La prima volta che me l'hanno detto di queste luci, se mi prendessero un giro, non ci credevo. Invece poi ho constatato davvero che, specialmente su un gambero, non su altre qualità di pesci, per lì sulla frittura, per luzzi o polpi, ma su un gambero se di notte, se di giorno per esempio si prendono 10 casse, e di notte senza luci, ha la stessa quantità che di giorno si prendessero 10 casse, di notte rimuoviglia 3 casse. Invece se metti le luci, di giorno 10 casse, di notte possono essere 9 casse, 8 casse o 10 casse allo stesso. Eppure come pezzatura, come dimensioni del gambero, se di giorno si prendono mischiati, quindi il 40% grossi e il 60% più piccoli, di notte con le luci si prendono il 60 più grossi e il 40 più piccoli. Siamo parlando di percentuale. con la luce, è meglio pescarla più a profondità, vedi dove c'è il gambero, perché come ho detto prima, l'interno a gamberi non ce n'è, e la pesca con le luci in meglio e di notte influisce troppo, parecchio o meglio, su un'altra qualità, quello che ho detto. Quindi è meglio fuori a base pubblica, però i bianchi è meglio i bianchi, e li mettiamo sul corticiale, sulla lima da sughero, e più ci si mettono i luci, è meglio, è meglio uno deve rispettare una distanza una da un'altra, più luci uno ci mette sopra il corticiale da sughero, è meglio. La ricerca che andiamo a condurre si inserisce in un progetto di ricerca più ampio, un progetto finanziato dall'Unione Europea, denominato Minoau, è un progetto a cui partecipano diversi istituti europei dell'Unione Europea, ma anche estracomunitari del nord dell'Europa, come Islanda e Norvegia. Lo scopo del progetto è proprio quello di arrivare ad una pesca più responsabile, riducendo i rigetti di mare, quindi lo scarto di specie non desiderate, che i piscatori catturano lo stesso ma che non hanno un valore economico. Il progetto prevede diverse sperimentazioni, diversi accorgimenti tecnici, come ad esempio l'uso di griglie, di maglie differenti, di uso di nasce in alternativa a trezzi meno selettivi o azioni come quelle delle chiusure di aree e di fermi di pesca. Grazie a tutti!